Salve gente e benvenuti sul canale YouTube Max California 86. Per il video di oggi ho deciso di parlarvi di un film per il quale avevo un po' di curiosità avendo apprezzato il primo, quello del 1988, e sto parlando di Beetlejuice, Beetlejuice, sequel di Beetlejuice Spirito Porcello. Sono andato al cinema perché ero curioso anche di vedere questo ritorno in sala, visto che il live action di Dumbo ha diviso un po' la critica. Diciamo che non è stato apprezzato proprio da tutti. Se pronuncio le tre magiche parole, Beetlejuice, 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 purtroppo non compare il Beetlejuice di Michael Keaton, che potrebbe risolverci molti problemi. Settimana prossima dovrei riprendere con le live del format al max qualche chiacchiera. Sto aspettando una risposta da parte degli ospiti per capire se posso averli in live o no. Poi vi farò sapere con un post o una storia se ci sarà la diretta, se l'orario rimarrà quello solito delle 21 e 30, se la faremo di mercoledì o un altro giorno. Comunque da domani sabato 14 fino a giovedì 19 ci sarà l'iniziativa Cinema in Fest per tutti i film europei e italiani. Comunque vi parlo di Beetlejuice, Beetlejuice, dopo la sigla! Lidia Dezza ha fatto della sua abilità nel vedere i fantasmi un vero e proprio lavoro. Conduce un programma televisivo titolo Ghost House. L'improvvisa morte del padre la riporta Winter River insieme a sua figlia Astrid e alla matrigna Delia per il funerale. La figlia conosce un ragazzo del posto che inizia a piacergli. Durante la festa di Halloween Astrid si reca a casa sua, ma fa una scoperta inquietante. Lidia per salvare la figlia sarà costretta a chiedere aiuto a Beetlejuice. Tim Burton torna con questo sequel a 35 anni di distanza. Anche il regista americano ha voluto partecipare alla moda del cinema hollywoodiano e cioè quella di realizzare sequel molti anni dopo il primo film. Per molti era quasi impossibile realizzare un secondo film, ma Tim Burton è stato uno dei pochi a volerlo realizzare a tutti i costi. Questo sequel di Beetlejuice Spirito Porcello nel 1988. In molti, me compreso, pensavano che fosse un po' fuori tempo, che i fan non sarebbero andati in massa in sala a vederlo e che sarebbe stato un flop. Di Beetlejuice, Beetlejuice ho apprezzato il giusto mix tra cast originale e nuovi personaggi, la trama un po' più complessa rispetto al primo film e l'atmosfera dark del Burton delle origini. Quello che invece non ho apprezzato di questo film sono alcune storyline poco sfruttate. Consiglio la visione di questo film se avete apprezzato il primo del 1988, se siete fan di Tim Burton, di Winona Ryder, di Jenna Ortega e di Katrin O'Hara. Il mio voto per questo film è un bel 8, quindi super approvato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube MaxCalifornia86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se il film l'avete visto o no, se vi è piaciuto o no e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane. Dopo la visione di questo film non vedo l'ora che arrivi in streaming la seconda stagione di Mercoledì, serie ideata proprio dallo stesso Tim Burton. Ho letto nei mesi scorsi che la seconda stagione dovrebbe essere molto più dark, horror. Speriamo bene visto che ho molto apprezzato la prima stagione. Tra domani e domenica sarò al Pescara Comics, fiera del fumetto che si svolge in Abruzzo a Montesilvano. Quindi se qualcuno che mi segue qui su YouTube o sui miei social è di quelle parti o Montesilvano o Pescara. Mi può anche scrivere in direct su Instagram o su Messenger così riusciamo a vederci anche in fiera. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter, Telegram nel quale trovate il mio gruppo MaxCalifornia86 al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sul cinema e le serie tv ma anche sui video che pubblico qui sul mio canale YouTube MaxCalifornia86 e TikTok nel quale pubblico video un po' diversi ma sempre a tema cinema e serie tv. Un saluto e ad un prossimo video qui sul canale YouTube MaxCalifornia86. Grazie a tutti.